Sì, questa è la storia anche dello sport barese-pugliese, questo stadio. Sono contento di tornare qui a Bari, sono tornato diverse volte, sia quando c'è stata la prima pietra, si fa per dire, per queste iniziative che oggi noi inauguriamo, sia quando il presidente della Federcalcio era Matarresi, lo segretario generale, ma certamente anche durante il Mondiale. Oggi siamo qui proprio per fare i complimenti al comitato regionale di Margaret, sta lavorando molto bene, molto seriamente e anche per dare atto delle iniziative che si stanno prendendo in questo periodo. Torniamo sulla nazionale, al di là del riscontro all'europeo, è oggettivo che questa squadra è tornata a bomba nel cuore degli italiani? Il commento che ha fatto Scariolo subito dopo è stato una realtà, cioè in una partita unica noi possiamo battere chiunque. Avete visto, abbiamo battuto la Spagna che ha vinto, eravamo lì, con la palla in mano contro la Lituania, poi ci siamo qualificati al Preolimpico. Certo, io come tutti i giocatori che mi hanno scritto, da quelli dell'NBA agli altri, volevamo andare avanti. Non ce l'abbiamo fatta, però abbiamo un Preolimpico certamente non facile, ma dove ci impegneremo con tutti i nostri mezzi per coronare quel sogno. Quando sono tornato in federazione e nessuno parlava più di nazionale, un merito che abbiamo è che tutti quanti oggi parlano di nazionale abbiamo stupito record di audience, di interesse e di emozioni. Fra pochi giorni sarà di nuovo in Serie A, che campionato sarà? E che campionato sarà per Brindisi, capofile del Movimento Pugliese? Ma io penso che dopo lo spot di questa nazionale questo sarà un campionato di record, sia nella Serie A1, sia nel secondo campionato, dove ci sono piazze anche più importanti alcune di squadre di Serie A. Brindisi, Brindisi era mai una realtà e devo dare atto a Marino, alla sua famiglia, degli impegni economici che hanno messo e di quelli che seguiteranno a mettere, perché è una delle società di rilievo, una delle società che ben opera nel basket maggiore e poi la capacità di Marino è che si divide tra il presidente di Brindisi, nonché proprietario, e il presidente di Lega e lo sta facendo con grande interesse, con grande affetto e con grandi risultati. Andando sulla stretta attualità, la scelta del Ct Andrea Capobianco come Ct della Nazionale Femminile? Sì, avevamo detto che questa scelta doveva essere fatta dai responsabili tecnici che sono pianeggiani e collaboratori, è stata fatta su una persona che tutti hanno gradito. Abbiamo fatto una rivoluzione, come nei tempi, mi dicono di Giancarlo I e anche dopo, dove c'era Rubini che era responsabile di tutte e due le nazionali maschile e femminile. Oggi abbiamo Capobianco che seguiterà per quanto è possibile a seguire la parte maschile, è la responsabilità totale della femminile, con diversi collaboratori, e in più abbiamo anche la parte atletica con Cuzzoline, che è uno dei migliori preparatori del mondo, che seguirà non solo la maschile ma anche la femminile. Grazie.